C'è stato uno smottamento sul versante di sasso di Monteniero, una frana al fronte di circa 30 metri nella parte iniziale. Si sta valutando adesso come intervenire, c'è una difficoltà di accessibilità con i mezzi pesanti. Ora è arrivato la grossa emergenza dei primi mezzi per vedere di poter liberare un po' l'accesso ad un'abitazione privata che comunque non è in pericolo. Aspettiamo comunque che le condizioni migliorino, soprattutto per chi può intervenire nel corretto e può intervenire dal punto di partenza.